Radio CH Network, sponsor by Orolucci, i più belli del mondo, ma fanculo. Il pugnale della pace. Dato una piccola bottarella di pugnale al vostro vicino, in segno di rispetto. Scambiamoci un pugnale di pace. Fatto? Sì, sì, fatto. A posto. A posto Tony. Sapevo dell'ascia di guerra, ma il pugnale di pace mai sentito. È sempre in gemellati qui, con la svizzera dal San Bernardo, direttamente col filo tirato, filo a Milano, Radio DJ, ci sentite forte Chiara? Sì, molto, ma prima o poi troveremo un modo un po' più tecnologico di collegarci. Ci sentite forte Chiara? Sì, sì, forte e Chiara. Chiara, Chiara, mi senti forte? Non c'è Chiara forte. Non c'è nessuna Chiara qua. Benissimo, a posto allora. Ciao, ciao, ciao. Senti Tony, poco fa è immersa una cosa curiosa in onda qua da noi in Italia, Radio DJ. Gente che ha il nome simile al cognome tipo Simone Simonetti, Lippo Lippi. Qua non si può. Non si può. Perché non si può? In Svizzera il governo ha vietato di chiamare il nome come al cognome, ha imposto la legge. Come? Se uno si chiama Mario Mari non può. Viene allontanato. Lontanato? Lontanato da dove? Al confino. A confini? Dal governo, viene allontanato dalla Svizzera proprio. E viene spedito dove? In Gemara, eh? E viene spedito dove? A Lontana. A Lontana. A Lontana. È un paese che si chiama Lontana. Lontana. Non sono tutti quelli con cognome e non uguale il nome. Le risate che ci facciamo, anche se è un periodo buio qua in Svizzera. E come mai? Eh, ci sono problemi. La crisi? No, è che la gente non viene più a portare i soldi in Svizzera. Ah, sì, perché adesso c'è la tracciabilità dei conti correnti. Da quando sto monte di Paschi di Siena ha fatto sta... No, non è di Siena. Ma ha fatto bene, perché c'è tasto di Fulmenti. E allora la gente non viene più come una volta a portare i soldi in Svizzera. Quindi come fate voi? Andiamo noi. In che senso, scusa? Allora, appuntamento alle otto in Dogana. Ma in che senso? Noi vi aspettiamo. Sì. Allora arriveranno dei nostri... Voi non dovete fare nessuna fatica. Voi che avete la macchina grossa che fatturate niente e andate in giro come nella babbi. Sì, sì. Che avete questo problema e vi capisco. Ma non è un problema. Voi che dichiarate zero ma avete una vita da springipe. Come fate? Da springipe. Poverini. Allora ci saranno i nostri ingaricati che vi verranno incontro. Eh, ma al confine quindi. Eh, sono tutti con la lampada. Ah, sì. Perché hanno sostituito quelli con i baffi, giusto? Esatto. Non c'è più l'uomo con i baffi. C'è stato un upgrade. Gente vestita bene con la lampada. Con la lampada. Loro sono... L'ampada è il sopracciglio rifatto ad ali di gabbiano. Brava. E stanno lì e aspettano. Ma è una roba ignobile, scusa. Fischiando. Cosa fischiano? Fischiano l'inno di Svizzera. Sì. Quello che l'ha fatto. Rimetto l'inno. È infischiabile. Non ce la farebbe nessuno. Ma poi col freddo che c'è e ti si ghiacciano. Parapapà, parapapà. Il matrimonio. Eh. Che si sposta. Cosa stai dicendo? Cosa stai blancherando? Sì, Tony, scusa. Scusa. L'inno del matrimonio. Vuoi dirmi che in Svizzera c'è la crisi della valuta? Scusa, la vostra moneta è ancora forte, no? Eh, qui c'è proprio il problema che avevamo troppe monete qua. In che senso? È perché ognuno ha la sua moneta. No, no. Voi in Svizzera avete il franco. Il franco ce l'ha... Chi si chiama franco? Io la mia moneta è la Tony. Cioè tu hai Tony? Tu paghi in Tony. Pago in Tony. Tony, semitoni. Diesis. Quando faccio un assegno è melodico. È melodico. Ok. Scusa, ma in Tony? Quanto costa un pezzo di focale? Ma che cazzo sto a parlare a fare con voi di economia? Che siete delle genti brutte. Delle persone angoscianti. Delle genti che dovrebbero smetterla di fare sto mestiere alla radio. Cosa è angosciante? Avete rovinato la radio di Gera. Ma non è vero. Vi siete offensi. Eh sì, dai sì. E io scherzavo. Allora, apposta. Alla posto, Tony. Parliamo di musica. Parliamo del gemellaggio radio DJ, radio CH Zurigo, perché il motivo vero è che noi vi consigliamo a voi dei motivi che diventano dei tormentoni che viene dal mio nome. Tony Tormen. Tormen 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 Tormen. Hai capito la battuta? No. Sono sei anni che la dico. Sì. Ancora stai a capire la battuta. Sei proprio indietro col cervello. Ti faccio dei disegni. Scemo. Ma senti, Tony. Con chi ce l'ho? Non lo so. Con qualche ascoltatore. Tu non mi guardare così oggi, eh? Ma scusa, non volevo. A te ti ammazzo, veramente. Ma no. Ma Tony. Mi dai una pugnalata con due cucchiaini di zucchero? No, non ti pugnalo. Auto infliggiti. A posto. Andiamo con la musica. Andiamo con la musica. A posto. Che scemo. Numero tre. Cos'è? Questa è Abbiamo Fatto Trenta Trentuno, si chiama sta canzone. Ma è un tarocco di amici. Abici, abici, abici. Abici? È la stessa tagliata. Abici, abici. Cos'è sta l'ho? Ma andiamo avanti con i tormentoni della Svizzera che arriveranno presto anche in Italia. Vabbè, se te prego. A, se te prego. A, se te prego. A, se te prego. È una porcata, Tony. Questa è un geniale sta roba. È una porcata. È Brasile-Torinese come il genere. Ma adesso la numero uno. E con grande piacere che mi scollego da voi togliendo il filo. Sì, senti, Tony, un'informazione, ma un disco in Svizzera quanti semitoni costa? Un disco sarà sui sette. Sette toni? Sì. E in Fabi quanto costa? Cosa? In Fabi quanto costa? Ma tu non hai la moneta, Fabio. No, perché sono italiano, giustamente. Tu hai l'acqua. L'acqua? L'acqua Fabia. L'acqua Fabia. C'è anche la macchina, Fabia. Senza la scoda. Allora, è con grande stimolo. Sì, stimolo. È un'ora. È un'air. È un'air efficienza che chiudo qui il collegamento staccando personalmente la spina del filo che ci collega dalla Svizzera all'Italia. No, che bel momento. Con... Basta. Con commozione che rilascio. Va bene, Tony, noi ti salutiamo. No, che c'è, cosa va? Ricordo se sarà alle otto puntuali al confine. Alle otto al confine, vi aspettiamo. A quei soldi. Ciao, Tony. Portate anche quello che volete, anche pendule, batterà. Radio QI AK, eine Nation, eine Station. Dies ist das Zeitsignal. Vaffan Gulo. Ascanaway.